Vedrete una storia di uomini che emigrano, di api che costruiscono un caldo rifugio, di uccelli che emigrano per godersi un bollente nido, ma tutto ciò ha un prezzo, soprattutto nido. Grazie a tutti. 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 Tanti buchi poco freddo, pochi buchi tanto freddo. Uomo del sud, ricordati, tanti buchi poco freddo, pochi buchi tanto freddo. Grazie a tutti. 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 Problema? No, no. Tutti i uccelli è migrante. Tutti i uccelli è migrante. Tutti i uccelli. Grazie a tutti.